Appuntamenti in agenda per giovedì 7 settembre. L'Alezio Magistralis del fondatore della comunità dei Sant'Egidio Andrea Riccardi sul tema Senza Memoria e Senza Storia non c'è futuro dà avvio alla decima edizione del Festival della Comunicazione di Camogli alle 17 in Piazza del Bastione tra gli ospiti della prima giornata Enrico Mentana, Aldo Grasso e Alessio Caminata. Primo giorno per la Sagra dei Perdoni e dei Perdonetti a San Salvatore di Cogorno. Alle 19 l'apertura degli stand gastronomici dalle 21 ballo liscio con l'orchestra Icaravell. Il Museo Dio Cesano di Genova torna a ospitare la musica del Festival del Mediterraneo. A partire dalle 20 e 30 nel chiostro toccherà l'ensemble Chacam formato da tre musiciste di diverse provenienze e formazione trasportare gli spettatori in un mondo di armonia femminile e corde virtuosistiche. Nel Giardino dei Lettori della Biblioteca della Società Economica di Chiavari alle 21 prosegue il ciclo Le Storie dietro alla musica nell'ambito della rassegna estiva Voci in Giardino. I musicisti Anna Sorrento e Daniele Beltrami dialogheranno con Paolo Bonini. Alle 21 all'Anfiteatro Bindi a Santa Margherita Ligure la filarmonica Cristoforo Colombo organizza un concerto del Corpo Bandistico Glenn Miller di Bedonia diretto dal maestro Daniele Cacchioli. Il Corpo Bandistico della Cittadina dell'Appennino Parmense è una giovane e dinamica realtà nata nel 1997 e che ha al suo attivo diverse trasferte sia in Italia che all'estero. Musica Musica Musica